No, no, nulla da nascondere. Non è stato un grande problema. Non mi ricordo la domanda. No, se il fatto che ci siano delle leggi da rispettarle anche se sono le richiede giuste, invece quello che si tratta, che lei ha detto, è più per il giusto che per la legalità. La legalità era anche quella dei campi di concentramento, dei diritti. Io penso che noi dobbiamo ribellarci quando le leggi sono giuste. E questo capisco che non è facile, perché da una parte abbiamo gli obiettivi, ma abbiamo sempre ambiti in cui fare passare anche un messaggio anche di umanità, perché altrimenti tutti si riduce a più cose.